Buonasera, benvenuti tutte e tutta a questa nuova puntata di Noi siamo speranza, una rubrica oltre il coronavirus oltre la frustrazione di questi giorni che ci sta accogliendo e che ci vede imprigionati nelle nostre case o almeno questa è la percezione che ne abbiamo. Questa sera, ve lo ringrazio già anticipatamente, sarà con noi e con noi Bobo Craxi. Ciao Bobo, benvenuto e grazie per la disponibilità. Non ti sentiamo, ti sentevamo prima, non ti sentiamo più. Prova un po'. Non ti sentiamo. Vediamo un po' se riusciamo a risolvere. Adesso non ti sentiamo, no. Ti sentivamo prima però, ti sentivo prima abbastanza bene, ma adesso non ti sentiamo più. Beh, intanto risolviamo che si risolvano le questioni tecniche. Volevo ricordarvi che questa è una rubrica organizzata al Servizio Cristiano Valdese di Riesi, un modo per dialogare con voi attraverso elementi di speranza verso il futuro, visto che la situazione attuale ci dà tanto tempo per riflettere, per confrontarci, per poterci mettere a punto a confronto, per condividere le prospettive che si aprono, che vengono aperte dalla situazione attuale. Adesso proviamo di nuovo. Bobo, ci sei? Mi senti adesso? Adesso ti sentiamo, adesso ti sento, sì. Ti sentiranno probabilmente anche coloro che ci stanno osservando in questo momento. Ti ringrazio ancora, ripeto, per aver dato la tua disponibilità ad essere con noi stasera. E la prima domanda che voglio rivolgerti è questa. Come stai innanzitutto? Come va la tua quarantena? Beh, ormai ci siamo abituati. Diciamo, non c'è più lo stupore dell'inizio. Ci siamo fatti, come dire, una ragione. Ma calcolo anche il fatto che non sarà infinita e quindi l'ho presa abbastanza con un certo fatalismo, insomma, con la preoccupazione di tutti. Intanto c'è il problema della salute. Se noi ragioniamo sul fatto che questa quarantena è in qualche modo è utile per evitare, diciamo, di ammalare o di far ammalare le persone, io sono convinto che alla fine qualche risultato ci sarà. Ancora non li vedo, ma insomma abbiamo pazienza. Insomma, io poi mi faccio sempre un'idea, perché insomma nella storia, leggevo oggi per esempio l'epidemia, erano certo altri secoli, però l'epidemia del 600 durò tre anni e fece un milione e centomila vittime. Quindi parliamo di cose che sono già accadute nella storia dell'umanità. Anzi, semmai l'aspetto curioso è che l'uomo ha fatto dei progressi, la scienza ha fatto dei progressi, eppure noi soffriamo esattamente delle stesse violente epidemie di come soffrivano i nostri avi. Quindi questo è un… si vede che l'uomo è fatto anche quando è venuto al mondo, è fatto anche per affrontare questo tipo di ostacoli. In questo caso che non si è procurato da solo. Ecco, l'epidemia, a differenza della guerra e della carestia, non sono fattori attribuibili all'uomo, anche se parzialmente potremmo dire che in parte anche all'uomo, ma non del tutto. Tu sei stato sottosegretario agli esteri, hai una grande esperienza a livello internazionale, hai rappresentato l'Italia all'ONU, hai portato a casa l'Expo del 2015. Comunque voglio dire, rispetto a tantissime altre persone hai una prospettiva più ampia da cui puoi guardare alla situazione attuale. Oggi il presidente tedesco Steinmeier ha richiamato l'attenzione dei tedeschi ad una maggiore apertura e fiducia nei confronti dell'Europa e a un maggiore impegno di solidarietà. Secondo te come ci vedono gli altri paesi in questo momento? Siamo davvero coloro che aspettano i soldi dell'Europa o sta maturando una condizione di migliore solidarietà a livello europeo? Bisogna sempre intenderci che cosa intendiamo noi per l'Europa. L'Europa non è un signore che tiene i cordoni della borsa e che allarga o restringe a seconda dei nostri desiderati. L'Europa certamente è un'istituzione dove esiste una mutua cooperazione, dove ciascuno di noi attribuisce all'istituzione europea un contributo. In questo caso, essendo che ci sono degli stati europei che subiranno a causa dell'epidemia un'evidente crisi economica, il sistema delle istituzioni europee e per primo la Banca Centrale Europea adotterà dei meccanismi di sostegno alle economie che sono entrate in crisi. Tutto il resto è pura... Poi possiamo discutere sull'architettura europea, sulla faraginosità dei meccanismi, possiamo discutere sulla necessità di revisionare questo o quell'aspetto dell'Unione europea e su questo io sono assolutamente d'accordo. Ma io non sono affatto né un euro fanatico né un euro critico. Penso che a situazione data noi dobbiamo assumere delle posizioni che siano il più possibile nazionali. Parliamo poi in termini molto pratici. L'Italia non è che ha bisogno solo di eventuali 35-40 miliardi dell'Europa. L'Italia per far riprendere la sua economia e per rimettere basi e fondamenta nella prospettiva di lungo periodo e di visione più lunga avrà bisogno almeno di 300-400 miliardi. La Spagna ne ha messi a disposizione 250, la stessa Germania credo che si sia indebitata per oltre 300. Quindi tutta questa discussione francamente mi sembra veramente malposta anche da parte del Presidente del Consiglio quando dice che non avrà bisogno di soldi europei. Tanto voglio dire se non li chiederà l'Europa gli dovrà chiedere dei fondi o delle banche e le banche gli chiederanno gli interessi. Quindi non capisco che dovendo noi indebitarci, tanto vale che ci indebitiamo in un'istituzione dove noi siamo tra l'altro parte. Aggiungo il fatto che siccome la cifra che noi richiedevamo era una cifra piuttosto esigua, non era necessario fare tutta questa confusione. Noi paghiamo 15 miliardi l'anno come tassa europea, ci tenevamo questi 15 miliardi e il resto ce lo facciamo aggiungere come effettivamente verrà aggiunto nel fondo cosiddetto MES, poi chiamatelo come vi pare. Noi accediamo a quel fondo, le banche tra l'altro una volta che la banca europea ha già dato la disponibilità a comprare i nostri titoli, addirittura i titoli nostri, i titoli degli stati che sono entrati in sofferenza, quindi non vedo assolutamente il rischio di non si capisce poi che cosa, di che cosa si paventa, quale rischio si paventa, non ci dobbiamo indebitare perché purtroppo siamo entrati in una condizione dove l'indebitamento è necessario. O c'è un indebitamento verso terzi, oppure si deve entrare nel mercato interno, il mercato interno vuole dire chiedere i soldi degli italiani, oggi gli italiani stanno tutti in casa, chiedegli anche le tasse, sembrerebbe una punizione eccessiva, una volta usciti da casa c'è qualcuno che gli chiede pure di pagare il conto della loro permanenza in casa e quindi chiaramente si troverà un meccanismo, però vedi in altri termini, lasciami dire, noi dovremo venire in chiaro al più presto, parlo noi italiani, il sistema politico deve venire in chiaro su quale orientamento di linea politica intende assumere da qui nei prossimi anni, cioè o noi siamo e abbiamo un governo coerentemente europeista, oppure diversamente siamo destinati a diventare, non si capisce poi la propaggine e la dependance di chi? Della Cina, della Russia, degli Stati Uniti, ma noi saremmo già, siamo in parte già una, abbiamo già un'influenza statunitense molto forte, ma non siamo in Porto Rico, cioè noi non viviamo nei Caraibi, noi viviamo in Europa e quindi inevitabile avere nel rapporto con l'Unione Europea la consapevolezza che noi siamo un grande Stato di questa Unione. Ma quindi tu sostieni che noi oggi in questo atteggiamento un po' ambivalente nei confronti dell'Unione Europea paghiamo lo scotto un po' dei mesi precedenti, in cui questo governo che comunque ha un traino preciso, che è quello dei Cinque Stelle, ha sempre mostrato un certo euroscetticismo. Quindi oggi di fatto viene fuori ancora questa situazione. Ma no, euroscetticismo, loro erano contro l'Europa, erano no euro, non c'era un scetticismo. Loro insieme a Salvini hanno rappresentato in Europa il paese non fortemente critico, perché la critica è una cosa, che nella filosofia di fondo presideva sempre il cosiddetto sovranismo. Solo che come abbiamo visto il sovranismo alle prese con un problema macroeconomico così urgente e così colossale, provocato peraltro dalla pandemia, a determinato condizioni nelle quali è venuta meno la solidarietà internazionale, perché c'è stata, come dire, sembravano i pirati, come sembravano i pirati dei racconti di Salgari, i predoni che cercavano ciascuno di tirarsi le mascherine, il mercato è diventato improvvisamente un terreno di battaglia di tutti contro tutti. È mancata la solidarietà, è mancata la comprensione del fenomeno, c'è un elemento naturalmente scientifico, sanitario che sfugge, quindi l'impreparazione è dovuta anche al fatto che non è che tutti quanti fossero idotti che un'epidemia potesse stendersi per un lungo, così lungo periodo e per un numero così alto, diciamo così, di malati. E con un'estensione così larga in tutto il globo. E quindi siamo di fronte a una situazione abbastanza straordinaria, mettersi a fare delle piccoli conticini dicendo no, ma noi non possiamo far da soli. È chiaro che noi dobbiamo essere padroni del nostro futuro, del nostro destino. Si sta discutendo soltanto di reperire dei fondi che l'Unione mette a disposizione e la Banca Centrale Europea mette a disposizione. Peraltro, assumendo una decisione nel giro di 48 ore, che calpesta tutti i rigori che hanno mantenuto, e vi faccio riferimento al vincolo di bilancio, ha dimostrato a un certo punto l'Europa, al di là delle battute, di aver capito di che cosa si tratta. Poi questo, quel dettaglio, naturalmente può essere sempre discusso. Non ci impicchiamo a delle cose che in realtà sono di carattere molto tecniche, ma anche, diciamo così, rivedibili. Il punto è il processo mentale e ideologico che uno intesta. Qual è l'orizzonte che intendiamo varcare? Qual è la prospettiva che si vuole dare a questo Paese? Qui non è chiaro. Quello che non si vuole, l'ho capito, non si vuole ogni tanto dover rendere conto ai nostri partner, che tra l'altro sono partner di moneta, quindi sono soci in affari. Però dall'altra non si intende dire esattamente come si vuole procedere. Si vuole uscire dall'Euro? Si vuole tornare alla lira? Pensate veramente che l'Inghilterra nei prossimi mesi, nei prossimi anni sarà un Paese ben godi? Io ho veramente dei miei dubbi. Quindi la proposta di una persona che ci sta guardando adesso è quella di un governo di unità nazionale di crisi. Quindi forse questo aiuterebbe ad uscire fuori dall'ambiguità o ritieni che ormai è tardi per mettere in piedi uno scenario di questo tipo. Perdonami, però l'unità nazionale si deve fondare su una convergenza nazionale e questa deve avere però delle linee guida molto precise. Non ci può essere un'unità nazionale fondata sull'ambiguità, dove uno vuole andare a Roma, l'altro vuole andare a Napoli, uno vuole andare a Enna, l'altro vuole andare a Catanzetta. Il problema dell'orientamento noi, a differenza della Spagna, dove in questo momento si sta discutendo di unità nazionale, lì siamo in presenza di forze che si contrappongono sui principi di ordine generale, di carattere ideologico, di politica economica, di politica sociale, di valori, di diritti. Non c'è dubbio. I popolari socialisti in Spagna sono forze antagoniste, lo sono da più di un secolo. Peraltro i popolari spagnoli hanno anche una storia di commistione, di continuità e continuità col franchismo. In Italia però noi non abbiamo forze di segno eguali, parlo di forze, esistono le forze democratiche ma non hanno il peso politico parlamentare per poter sostenere una politica comune. Infatti le forze che si sono unite prima di questo governo avevano nel sovranismo e nell'anti-europeismo un collante formidabile. Poi sono crollati, per fortuna dico io, quest'estate per via della vicenda della volontà di Salvini di assumere la plenipotenziarietà, di aver vinto le elezioni e pensava che fosse possibile dare una spallata, poi la spallata l'hanno data a lui. Però questa chiarezza politica la dobbiamo dare e io al di là di tutto, insomma mi pare che il Presidente del Consiglio stia sbannando. Ma che ne pensi di quello che sta succedendo in Ungheria, che è successo in Ungheria nei giorni scorsi? Quanto questo c'entra realmente col coronavirus e quanto in realtà la situazione attuale sia un elemento di grave destabilizzazione della tenuta democratica dei paesi europei? Ma guarda, l'Ungheria ha una storia diciamo democratica molto breve ed un retaggio imperialistico e di totalitario piuttosto lungo. Quindi l'Ungheria conosce, ritrova la libertà dal comunismo nel 1989. Però l'Ungheria, non dimentichiamo, è stato parte del grande impero che ha dominato l'Europa per tre secoli. Quindi non stiamo parlando di un paese che ha delle radici democratiche profondissime. Quanto a Orban, sì, ha fatto un po' una parata che destabilizza perché il suo piano della forzatura, però in realtà ne ha combinate di peggio secondo me o prima, con la stampa, è un certo modo di affrontare il problema dell'immigrazione. Quindi Orban non fa paura nel senso che non è Francesco Giuseppe. Ecco, gli ungheresi non sono più gli ungheresi di due secoli fa. E quindi verrà naturalmente richiamato all'ordine, lui cercherà di uscire da questa difficoltà. Orban tra l'altro appartiene al Partito Popolare, quindi è parte di una delle famiglie politiche democratiche più importanti d'Europa. Quindi dovrà avere anche lui l'interesse a evitare di scollinare verso una posizione insostenibile. Però è un problema che considero onestamente minore, non per gli ungheresi, anche se poi gli ungheresi stanno esattamente in casa come noi. Noi non abbiamo avuto il Parlamento che ha dato pieni poteri a Conte, lui se li ha presi da solo. Non ha manco, almeno Orban è passato dal Parlamento. Conte invece se non li ha avuti in automatico. Noi li abbiamo concessi naturalmente perché siamo un popolo che comunque capisce quando ci sono delle difficoltà che meno intralci ci sono, per chi comanda la nave meglio è. Ora però la nave è in mare da 40 giorni e quindi sai l'equipaggio comincia ad essere un po' nervoso. I colonnelli che hanno stati messi un po' da parte incominciano a scalpitare e quindi alla fine è naturale che ritorna la politica. Vedi, in questi anni tutti si sono riempiti la bocca del fatto che si erano eliminati i partiti. Tutti erano contenti i partiti, erano una fonte di disgrazie, di guai, di corruzione, insomma tutto ciò che si poteva dire di male sui partiti lo si è detto. Però in cambio non abbiamo costruito nulla e alla più grande prova che l'Italia ha dovuto affrontare nel dopoguerra, considero questa una prova di tenuta democratica, di tenuta civile, quasi simile, anzi quasi peggiore rispetto a quella che dovevamo affrontare durante il terrorismo. Tu eri giovane, anch'io ero giovane, ma non posso non ricordarmela, però allora fu diluita nel tempo e ci erano degli anticorpi e poi soprattutto il terrorismo era una cosa circoscritta. Qui noi in due mesi abbiamo dovuto affrontare una specie di guerra e questo esecutivo dà l'impressione di essere fondato su delle idee abbastanza balzane, di non avere il polso della situazione, penso al ministro degli esteri che invece di alimentare la solidarietà internazionale attraverso un'azione nei confronti dei paesi amici, paesi vicini, mi pare si sia dato molto da fare per avere vicino a sé la Russia, la Cina, Cuba, ho visto Cuba, oggi sono arrivate le mascherine da Cuba, ma noi non confiniamo con Cuba, i nostri vicini di casa sono i francesi, capisco che è un imbarazzo per Di Maio andare a parlare con i francesi, però... E però Macron ha cercato l'intesa con l'Italia, ha cercato di fare sponda a un certo punto. Sì, ma qui c'è un complesso perché il governo Conte e Conte in prima persona nasce da un matrimonio che escludeva i parenti, che escludeva di avere parenti, anzi questi erano considerati i nemici, Di Maio quando era vicepresidente del Consiglio è andato a incontrare i manifestanti che per sei mesi hanno messo a ferro e fuoco la Francia, non dimentichiamo, oggi Di Maio fa il ministro degli esteri, siccome questo non è che sia accaduto nella sua gioventù, per cui sono episodi che uno ricorda, è accaduto 12 mesi fa, questo provoca un problema in Europa perché si capisce che c'è uno sbandamento delle nostre classi dirigenti, quindi prima o poi finita l'emergenza si andrà secondo me in chiaro questo problema di dare un segno di coerenza e cercare soprattutto di capire e comprendere che, e lo dico perché chi ci ascolta magari i problemi degli italiani non è che possiamo chiedere di fare risolvere gli olandesi, cioè non è che scopriamo l'acqua calda se pensiamo che gli olandesi siano un popolo così gretto, ma il problema italiano devono risolvere gli italiani, farsi aiutare naturalmente dalle potenze, ma il problema italiano lo dobbiamo risolvere noi, dove vogliamo investire, quali sono i comparti che vogliamo aiutare, in che modo farà arrivare la cassa integrazione, perché capisci per un mese possiamo anche riuscire, ma l'Inps non potrà dare cassa integrazione per altri 30 giorni, cioè per questo che il problema italiano è un problema stringente ed emergente, ci sono interi comparti che rischiano di non ricevere lo stipendio, ma non so se ci rendiamo conto di cosa sta accadendo o cosa potrebbe accadere. Ma quindi il più grave del coronavirus è l'assenza di politica, tu ci stai dicendo stasera? Vanno corrette alcune impostazioni, adesso non usa farla così tragica, va corretta impostazioni e soprattutto secondo me sarebbe dovuto orientare una macchina, tu l'hai chiamata unità nazionale, di solidarietà nazionale temporanea, così fanno i grandi paesi, mettendo da parte qualsiasi tipo di concorrenza elettorale, anche perché gli italiani stanno in casa e non possono votare, solo che Conte non l'ha ricercata, gli ha fatti andare a Palazzo Chici un paio di volte, ma subito all'inizio avrebbe dovuto ricercare la solidarietà, d'altronde è quindi oggi inevitabile che incasserà tutte le critiche che gli stanno arrivando addosso, compresa quelli dei ritardi, che sono stati comunque una delle fonti della difficoltà di contenimento del contagio. Gli verrà messo sul conto anche questo aspetto, aspettiamo soltanto qualche settimana, qualche mese, vedrai, gli verrà messo sul conto, invece come spesso accade, se tu condividi, condividi, alla fine non sei solo tu il responsabile di questo o quel ritardo, questa o quella mancanza, perché hai chiamato a governare assieme a te un pezzo importante del paese. Siccome piaccia o non piaccia, Salvini, Meloni e anche Berlusconi rappresentano la metà del paese, siccome l'epidemia riguarda tutti, io avrei coinvolto anche loro in modo tale che gli è tappato la bocca, insomma sostanzialmente, no? E se dietro ci fosse una strategia diversa, cioè quella di transitare il paese verso un nuovo assetto costituzionale, ora non la voglio fare complottistica, no? Perché non mi interessano queste cose, però noi ci stiamo abituando a vivere in un sistema nel quale abbiamo sospeso alcuni diritti costituzionali di fatto. Ci riabitueremo, li rivendicheremo dopo o ci abitueremo a questo sistema che si è generato di fatto e quindi ci consegneremo ad un nuovo assetto costituzionale che verrà? Ma sai, ogni anomalia di per sé comporta poi delle, richiama delle altre anomalie, e quindi è evidente che se per contrastare la diffusione di un virus epidemico è letale, la forma di difesa dell'uomo è quella di isolarsi socialmente, come si dice, quindi di nascondersi, è chiaro che da spazio richiama la necessità di fare rispettare questo isolamento, e allora dentro questo rispetto di isolamento possono anche accadere cose abbastanza comiche. Io ho finito dieci minuti fa, prima di parlare con te, ho visto un filmato di un elicottero a Venezia che inseguiva un disgraziato che stava sulla spiaggia, o anche la cosa di Palermo dell'altro giorno, ma non perché, appartiene che non ho capito cosa facessero di male, ma che gli elicotteri della polizia inseguano i cittadini sul tetto, poi soprattutto in Sicilia, dove mi pare che i problemi di criminalità riguardano altri settori della società, non quelli che vanno a farsi la bistecca sopra il tetto. Lì ci sono, come spesso accade, sai l'Italia poi ogni tanto diventa anche un paese originale per certi versi. Sì, bisogna stare attenti appunto che non si prolunghi l'astensione dal processo democratico, però il tentativo che fu fatto all'inizio da Conte è stato subito stupato, cioè il tentativo sostanzialmente di non riferire al Parlamento, tentativo che reitera perché credevo che lui non voglia andare in Parlamento prima di andare in Europa, e quindi non passerà dal Parlamento a farsi dare un mandato, sa benissimo che la coalizione e il suo partito in particolare è diviso su questi aspetti, però una forma di controllo democratico c'è, c'è la stampa libera, ci sono ancora i sindacati, ci sono ancora comunque forme di protezione democratica. Certo, l'Italia è un paese che ha delle pulsioni totalitarie, non c'è dubbio. In campi diversi, sia in campo della destra, sia in campo della sinistra, non dimentichiamo. Tentativo poi di protagonismo dei magistrati, insomma, certo, noi siamo sempre in qualche modo borderline. Molto più noi di altri paesi, intendiamoci, molto più noi che altri paesi, che invece vengono definiti autoritari, totalitari. La Germania, secondo me, ha un tessuto democratico molto più forte e resistente del nostro. Su questo sono d'accordo anch'io, riprova nel fatto che difficilmente in Germania si potrebbero bypassare le libertà individuali o comprimerle così facilmente, ma quello che mi preoccupa è che non si riesce a capire dove stiamo andando. Se alcune misure all'inizio dell'emergenza legata al Covid-19 avevano un senso e potevano essere anche accettate facilmente all'opinione pubblica, col passare dei giorni, col passare del tempo, tutto diventa insopportabile, diventa intollerabile. Mi preoccupa più il rischio di quello che arriva dopo il coronavirus, al netto del coronavirus. Sì, non esiste un rischio calcolato in queste cose e soprattutto in questo momento non c'è un decisore ultimo, perché noi ci siamo affidati all'elemento fondamentale che è rappresentato dalla conoscenza della scienza sugli aspetti dell'evoluzione delle epidemie. Però, e non siamo in grado di dare una data, questo diciamo è, può essere, anzi è, da un certo punto di vista, non voglio dire pericoloso, è spiazzante, no? Il fatto di non avere una data certa, perché vedi, se hai una data certa alla fine ti metti qua in pace, nel senso che comunque sai che c'è questo punto, è un sacrificio che dura fino a un certo punto, l'impressione che non si abbia la data certa rende tutto più complicato. Però io azzardo una previsione, insomma, che con i mesi caldi, diciamo, contestualmente si abbasserà la violenza del contagio, probabilmente anche la diminuzione, spero, mi auguro, delle vittime, l'affievolimento dell'aggressività del virus, perché tutti quanti sostengono sostanzialmente che con il caldo questo tipo di virus in generale hanno una vita più difficile, e quindi io penso che ne usciremo, insomma, basta pazientare. Adesso siamo il 14 aprile, come si dice, abbiamo fatto 30, facciamo 31. So bene, io ho sempre immaginato che sarebbe andata avanti fino a maggio questa storia. E quindi bisogna risolvere, tamponare il problema economico emergenziale con delle misure che in qualche modo riescano a coprire un fabbisogno del comparto privato e poi successivamente, secondo me, individuare una prospettiva di ricostruzione che non può essere affidata alla sola task force cosiddetta. Anche lì c'è il rischio della plenipotenzialità, quindi non mancheranno i problemi, anche se le persone che sono state chiamate in alcuni casi sono anche di grande eccellenza. E poi arriverà Mario Draghi. Ci dovrà essere un passaggio politico. E poi arriverà Mario Draghi. Mario Draghi è una personalità importante del mondo finanziario. Quello che bisogna capire, secondo me, ed è diverso da molti, tra l'altro, perché non è un dottrinario, non è un professore di economia, ma è che noi dobbiamo recuperare sul mercato delle risorse. Questo significa che dobbiamo avere qualcuno che ti presta dei soldi, perché si fida di te. Ora, io penso che tra Mario Draghi e Conte il prestatore credo che si fidi più di Draghi a questo punto di vista. Non vorrei sbagliarmi, ma penso che sia così. Forse altro perché ha una certa dimestichezza con la finanza. e tu mi dirai, sì, ma noi abbiamo sempre il problema della tecnocrazia al potere. Sai, dopo la guerra, in America c'erano i generali al potere. Quando si dice il piano Marshall, Marshall era un generale, non è che fosse un rappresentante del popolo. Noi dovremmo sopravvivere fino a che non nasce una nuova classe dirigente politica, finché nuove idee nella politica non si riaffermano, nuove idee costruttive, non distruttive. Perché fondare partiti che hanno come obiettivo quello di cacciare tutti quanti, dire che tutti devono essere onesti e dire che bisogna uscire dall'Europa, cioè fare un tipo di politica contro e non aver creato le basi, messo le basi per una prospettiva di carattere ideale. capire in quale società si vuole vivere, qual è il crogiolo di valori che noi mettiamo insieme a una società, tra l'altro anche complessa come la nostra, perché facciamo fatica, l'hai misurato, penso anche tu, non so con chi vivi, ma insomma quando si sta in casa si fa fatica ad un accordo in quattro, figurati in 60 milioni. Quindi la situazione è complessa. Molto complessa. E il tentativo, diciamo, certo, di stringere e lasciare in mano un'elite, la guida del paese è molto forte, questa tentazione. Però c'è anche un processo di maturità del popolo italiano che da tutta questa vicenda è uscito fuori. Tu dici sarà stata la paura della malattia? Non lo so, io penso a un civismo che secondo me nelle grandi occasioni il popolo italiano ha saputo sempre dimostrare. Solo che in altre stagioni questo civismo, questa forza di reazione, nasceva anche dalla funzione ideale che i partiti in qualche modo determinavano. Ecco, non voglio dire che guidavano, però insomma i partiti democratici hanno avuto una funzione essenziale nei momenti di maggiore difficoltà del paese, c'è stata una tenuta. Qui c'è stata una tenuta sostanzialmente democratica perché si capisce che siamo ad una svolta, ad una svolta epocale nel modo di produzione, in come noi il nostro rapporto con la natura, il nostro rapporto con la salute, il nostro rapporto anche con il denaro, perché qui c'è poco da fare, non c'è stato più nulla di democratico di questa epidemia. Ricco e il povero ce ne stanno a casa e secondo me a casa di un povero cosiddetto si mangia meglio che a casa del ricco. Si vive con poco, quindi anche il ricco certamente è favorito perché starà nella sua casa con la piscina, poi in Sicilia magari ci avranno anche, che ne so, no, tutte le cose. Purtroppo c'è generato anche una differenza di classe, però di condizione no, la condizione è che il povero la vivono ugualmente, quindi bisogna capire che si può anche vivere con poco, ma lo devono capire loro, non i poveri che lo sanno già. Quindi tu pensi che il virus abbia un progetto politico più ambizioso di quelli che in realtà siamo stati capaci a mettere in campo noi in Italia negli ultimi 15 anni? Il virus ha fatto, no, non in Italia, il virus ha aperto delle contraddizioni evidenti nel mondo della globalizzazione. E vedi diverse contraddizioni aperte. Quando si dice, però noi siamo tutti uguali, tutti i paesi hanno dovuto affrontare lo stesso modo, ma non è vero che abbiamo affrontato tutti lo stesso modo, perché ciascun paese ha delle sue abitudini, delle sue radici culturali, e quindi è anche vero in parte che i sistemi autoritari hanno saputo padroneggiare meglio la crisi. è un bene o un male, penso che sia un male, però è vero che i paesi autoritari, Cina, Corea, dove c'è dell'autoritarismo nel loro sistema istituzionale, hanno potuto imporre meglio le regole ferre dell'istaccamento sociale, eccetera, i nostri paesi sono un pochino più laschi, per fortuna. Eppure, appunto, questa contraddizione è emersa, cioè che la globalizzazione e il potere della finanza non poteva prevedere la possibilità di fronteggiare un problema che il denaro da solo non è in grado di risolvere e che i sistemi, diciamo, che i sistemi autoritari o democratici da soli non possono risolvere. Quindi bisogna immaginare un mondo sempre più interdipendente in cui però regnino delle regole condivise. Non è semplice, non lo si può fare in qualche settimana o facendo un dibattito televisivo o una puntata da porta a porta. sono sistemi e processi complessi. E un'altra cosa abbiamo anche compreso e capito che i conflitti che ci sono stati non possono né perpetuarsi né trasformarsi in conflitti di carattere definitivo armato. Cioè il conflitto armato non risolve i problemi di fondo della sicurezza, della pace e delle diseguaglianze del mondo. Non sono non sono non è ricorso alla forza e alla violenza. Ma quindi uno dei nostri ascoltatori sostiene ti chiede faremo esperienza del virus il neoliberismo cambierà oppure ritorneremo alle condizioni pre-virus? Ma guarda che ci sia la tentazione di tornare a fare esattamente quello che si faceva prima è molto forte ma è chiaro che non è così. Non è così perché siamo obbligati a prendere non solo delle precauzioni dal punto di vista sanitario ma spostare il nostro modello di produzione il che non significa rinunciare al libero mercato perché l'errore sta nel pensare che la sconfitta o comunque la crisi del capitalismo globale si trasformi in una vittoria del collettivismo non è questo è che questo tipo di modificazione dei sistemi in atto impone il revisionismo di alcune strutture che noi abbiamo dato per scontato fossero in qualche modo salvifiche la visione messianica del liberismo della finanza o anche la revisione messianica della stessa Europa devono essere in qualche modo rimodulate in una visione diversa dove tener conto come si sta a questo punto in questo pianeta tutti quanti assieme anche perché abbiamo capito che il destino è un destino comune non si tratta soltanto banalmente diciamo del destino comune dell'essere umano che è sceso sulla terra ma è un destino comune di stati di nazioni che sono diverse per loro natura per cultura per storia e quindi uniti nella diversità è un processo molto complesso questo per questo noi italiani non dobbiamo tutto sommato ne ricaveremo secondo me paradossalmente inutile intanto perché tutto il mondo sa che noi siamo stati una delle nazioni più colpite e non c'è nulla come ciò che suscita pena che suscita un moto di solidarietà insomma di amicizia ci sono tanti italiani nel mondo in questo momento che soffrono per gli italiani che sono in Italia quindi io non seducessi bisogna dire come i latini cioè il male che si trasforma in un bene però sapendo naturalmente quali sono le linee guida dovrebbero essere le linee guida della trasformazione di questo di questo male in un bene bisognerebbe sostanzialmente cogliere l'opportunità del coronavirus e non viverla solamente come una disgrazia che ci è piovuta tra cielo e terra ma questo poi è compito della politica riuscire a leggere il presente e proiettarci nel futuro e lì la vedo un po' più complicata diciamo almeno facendo i conti con la classe politica attuale in Italia questa è una mia opinione ma guarda io mi sposto insomma il problema riguarda il problema italiano riguarda un po' tutto l'Occidente cioè il problema che l'Occidente cioè che in realtà è il mondo libero insomma no il mondo libero nel senso che l'Occidente è l'unico per l'Occidente intendo tutte le nazioni che si sono date un sistema democratico e che hanno di fatto di fatto hanno orientato cercato di orientare sicuramente hanno dominato il mondo questo sistema occidentale un dominio democratico la pandemia potrebbe scatenare una raffica di modernizzazioni perché bisognerà migliorare l'assistenza sanitaria l'assistenza sociale trovare il modo di bilanciare meglio i nostri i nostri i nostri budget ridurre il nostro debito pubblico e poterà anche in qualche modo reindirizzare le risorse che noi avremo verso a questo punto verso i più poveri ma in una condizione diversa che è quella dettata dalla mera assistenza cioè noi dobbiamo ripensare un nuovo stato sociale e il nuovo stato sociale siccome è molto costoso dovrà tenere conto della fondamentale ruolo che avranno i privati perché quando parlo di stato sociale io comprendo nello stato sociale l'assistenza sanitaria l'educazione e tutto ciò che può essere fatto non necessariamente solo dallo stato perché non è che tutto ciò che è pubblico deve essere statale e quindi la forza di un governo è quella di riorganizzare un sistema di questa natura cioè avere un'idea di fondo naturalmente di ciò che si intende per una società moderna noi invece purtroppo avendo alle nostre spalle una storia di comparti privati che hanno vissuto di sussidi lamentiamo questa fine di quella stagione solo che quella stagione è finita vent'anni fa e in questi venticinque anni non abbiamo ricostruito nessun modello abbiamo molto parlato ma non si è ricostruito nessun modello poi ci sono naturalmente delle isole felici dei modelli regionali efficienti però insomma bisogna cominciare a ragionare in questi termini è molto ampia la prospettiva che tracci e chissà che davvero questa situazione non si trasformi in un'opportunità per il nostro paese e per la società senti per passare a qualcosa di più leggero e poi avviarci alla conclusione di questa chiacchierata cosa farai quando ci sarà il Tana libera tutti cioè quando si potrà uscire di nuovo no io intanto esco nel senso che una volta in due giorni esco quindi non la vivo proprio come la prigione non lo so intanto rivedere gli amici ecco una cosa che più mi è mancata sono gli amici io avevo in programma tra l'altro di andare devo vedere mia madre che sta in Tunisia e poi avevo in programma di andare in Sicilia quindi la mia idea è sempre quella di anche se non sarà complicato farlo cioè di andare in Tunisia e poi venire in Sicilia però credo che non riusciremo a uscire dalla nostra regione quindi non ci dovremo limitare a raccontarci le nostre come se avessimo fatto le nostre prigioni con gli amici e ci racconteremo ciascuno il periodo come se fossimo arrivati dalla guerra di Russia in realtà consideriamoci fortunati non voglio farla troppo pesante ma insomma io io ricevo guarda io alle 5 ricevo il bollettino dalla Lombardia e poi alle 6 c'è quello nazionale e insomma ogni giorno è una specie di di colpo al cuore tieni conto che io non sono riuscito a vedere film sì ho letto dei libri ma non questa vicenda onestamente ci ha strappato anche voglio dire quasi anche la voglia di vivere no cioè non si può dire che viviamo una condizione normale no quindi io però insomma farò volentieri insomma una passeggiata dai miei amici e spero di vederli qui di invitarli a cena o di andare da loro no l'unico l'unico e sentire tutte le persone che poi in queste settimane vuoi o non vuoi con cui ci siamo legati no anche persone che magari non frequentavo eccessivamente è successo si è sprigionato un po' di solidarietà io poi alla sera forse tu lo sai verso le 11 mi metto sempre un po' suonare la chitarra su Instagram allora che mi vengono a fare compagnia un gruppo di amici no di amici poi di persone che non conoscono che poi passano di lì sì ho creduto molto al vincolo al valore della solidarietà io confesso non sono non sono cattolico sono diciamo mi sono molto avvicinato al buddismo però ho trovato che a volte la fede ho sentito da persone amiche ha colmato molto il vuoto esistenziale la spiritualità ha determinato una condizione migliore per chi in questo momento per chi soffre è una riduzione del danno ecco perché sappiamo benissimo che chi soffre fisicamente la spiritualità non è sufficiente chi non sa dice ma voi poi finirà il 3 maggio ma io il 4 maggio sono ancora in cassa integrazione poi non lo so se io perderò il mio lavoro e ho i figli da mantenere quindi sai io penso alle condizioni drammatiche in cui vengono secondo me centinaia di migliaia di italiani in questo momento ma qui non è neanche sufficiente attenzione anche c'è un'immediatezza tu puoi tamponare un bisogno un fabbisogno reale concreto il problema è la prospettiva la prospettiva del lavoro e quella purtroppo non siamo in condizioni così così è così è pronto? abbiamo perso abbiamo perso Bobo abbiamo perso Bobo però eravamo su le battute finali e voglio e voglio ringraziarlo ancora per aver condiviso con noi questa questa conversazione che spero abbia fatto piacere anche a voi che ci avete ascoltato e e visto che dovrà fare una passeggiata poi quando sarà anche in Sicilia ovviamente lo invitiamo a venirci a trovare qui a Riesi grazie a tutti e a tutte per aver condiviso ancora questo momento ci rivediamo nei prossimi giorni nelle prossime ore con altre conversazioni con altri ospiti e proviamo ad entrare ad andare oltre la situazione contingente e ad ascoltare anche delle prospettive diverse che ci arrivano grazie a tutti a tutte a presto a presto a presto Grazie a tutti